Ho chiesto un minuto di silenzio, noi spesso in aula abbiamo celebrato, ricordato, onorato il nome di tante persone che hanno fatto qualcosa di importante per la nostra regione. Questa bimba trovata ieri dentro una valigia nera, abbandonata, probabilmente ancora in vita, accanto a una farmacia, un nome purtroppo non l'ha avuto, quantomeno noi non lo conosciamo e ho voluto con questo minuto di silenzio unire il sentire del Consiglio Comunale a quello dei cittadini di Campi che sono la comunità sconvolta da questo evento. Il Sindaco ha detto che il Comune non soltanto si farà carico della sepoltura ma che offrirà anche una cerimonia per ricordare questa piccola. Io volevo che anche il Consiglio si unisse a restituire un minimo di dignità a questa bambina. È un fatto gravissimo, è un fatto che ci chiama in causa tutti, è una sconfitta per le istituzioni ma non soltanto come uomini e donne delle istituzioni siamo sconfitti, siamo sconfitti come uomini e donne perché qualunque sia il tragico percorso che ha portato questa donna probabilmente a una scelta così drammatica denuncia una situazione di desolazione assoluta, di miseria dolente, non so nemmeno trovare le parole più adeguate per descrivere quel che può essere successo. Qualunque ipotesi è drammatica. Vorrei però approfittare di questo momento per ricordare a tutte le donne che in Toscana i percorsi ci sono, che le donne non vengono lasciate sole, ci sono i consultori e c'è anche un progetto che si chiama Mamma Segreta per cui chiunque, anche extracomunitaria, anche irregolare, può andare in ospedale e partorire con la massima tutela di salute per lei e per il bambino e nella segretezza, nell'anonimato più completo. Circa due bambini l'anno vengono partoriti all'interno di questo progetto solo nell'ospedale di Careggi e in brevissimo tempo vengono adottati. Le risposte ci sono, aiutateci tutti a diffonderle perché è difficile. Noi abbiamo volantini pubblicati in più lingue, in tutti i consultori, negli ospedali, ma probabilmente le donne che arrivano a un gesto così drammatico e così atroce non hanno nemmeno percorsi, non si fanno seguire nella gravidanza, sono situazioni davvero estreme, per cui anche una parola di ciascuno di noi può aiutarci a evitare drammi di questo tipo.